Infortunio nel pomeriggio di venerdì 24 maggio in un impianto lavorativo di Moggio Udinese dove un uomo di circa 70 anni è rimasto ferito. Il personale sanitario che l'ha soccorso attorno alle 18 ha rilevato traumi da schiacciamento. Dopo le prime cure il paziente è stato accompagnato con l'elicottero al pronto soccorso di Udine. Sul posto per tutti gli accertamenti i carabinieri della compagnia di Tarvisio e il personale del dipartimento prevenzione dell'azienda sanitaria. L'uomo è ricoverato all'ospedale per fortuna fuori pericolo di vita.